un disastro totale ragazzi abbiamo risolto dei problemi per cui abbiamo risolto io sto dentro al canale io sto qui dentro al canale le carpe sono proprio tante carpe 10 kg guarda le carpe guarda qua guarda che disastro ambientale ragazzi guarda che disastro guarda che disastro guardate che disastro qua io sto dentro il canale il canale è asciutto guarda guarda il canale qui è completamente asciutto qui il canale è completamente asciutto lì là ci sono altri vesci che boccheggia il canale si passa più guarda che disastro guardate che disastro vuole stare dice che non può fare niente vuole stare dice che non può fare niente guardate qua guardate 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 guardate